Belen Rodriguez beccata in buona compagnia durante le sue vacanze. La showgirl ha ritrovato il sorriso insieme a lui. Da tempo, Belen Rodriguez è protagonista del gossip. Per la sua vita privata e soprattutto per i flirt che le vengono da sempre attribuiti. La separazione da Stefano De Martino è stata un duro colpo ed è riuscita a superare il momento grazie all'aiuto di specialisti. Infatti, in un'intervista rilasciata a Domenica In, aveva raccontato di aver passato un brutto periodo e di essere stata ricoverata in una clinica, perché aveva perso molto peso. In seguito alla rottura dall'ormai ex marito, si era tanto parlato della sua storia con Elio Lorenzoni. I due erano prossimi alle nozze, come lei stessa aveva raccontato a Mara Venier. Ma a quanto pare anche questa volta è giunta la fine. Ma la vita sentimentale della showgirl non smette di far parlare e di recente è finita di nuovo al centro di interessanti notizie. L'ultima indiscrezione parla della sua vicinanza ad un nuovo uomo. Belen. Spunta l'indiscrezione clamorosa. La showgirl è in vacanza proprio con lui. Negli ultimi giorni l'attenzione è diventata ancora più forte sulla vita privata di Belen. Dato che sarebbe stata più volte paparazzata in buona compagnia. Dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni, sembra, infatti, che abbia di nuovo ritrovato il sorriso, accanto ad un uomo che non appartiene, questa volta, al mondo dello spettacolo. Si chiama Angelo Edoardo Galvani. Ha 34 anni ed è un ingegnere esperto di tecnologie sostenibili. Già qualche settimana fa sono spuntate delle voci e subito dopo delle foto della coppia. Il settimanale, Chi, aveva infatti annunciato che Belen aveva ritrovato l'amore e aveva anche pubblicato delle immagini a corredo. Che non avrebbero lasciato spazio a dubbi. Di recente, però, Diva Donna ha fatto sapere della rottura tra la showgirl e l'ingegnere e ha addirittura spiegato che lei, dopo l'ennesima batosta sentimentale, starebbe vivendo un periodo complicato. Ma, a quanto pare, le dichiarazioni non coincidono con quanto riportato da Dejanira Marzano. L'esperta del gossip ha, infatti, condiviso sul suo canale Instagram i messaggi di alcuni utenti che le hanno rivelato di aver visto la conduttrice insieme ad Angelo, sull'isola di Albarella, mentre si trovavano su una golf car. E questa indiscrezione sembra essere confermata da una storia dell'uomo. In cui ha mostrato proprio lo stesso luogo citato dai follower che hanno scritto alla Marzano. Parlebbe, quindi, che non ci sarebbe stata nessuna rottura e che Belen e il suo nuovo compagno si starebbero godendo le vacanze estive.